...e realizzato con la collaborazione dei direttori artistici del LAC, del Masi, Marco Francioli, del Lugano in scena, Carmelo Rifici, Lugano Musica con il mio collego Ezzan Rimont, e anche con la collaborazione del LAC IDU e altri partner. Un punto di forza del LAC è la transversalità, la nostra capacità a presentare tutte le forme d'arte. La prima manifestazione di questo punto di forza era l'inaugurazione. Adesso lo faremo con una nuova formula, vogliamo presentarvi un paese nei suoi diversi aspetti. Dunque, Focus India non presenterà l'India in modo classico, ma l'incidenza che l'India ha avuto e ha ancora sulla nostra cultura. L'Indiana attraverso l'arte, la danza, la musica e il cinema, ma anche attraverso molte attività. La mostra del Masi è il cuore del progetto, dunque voglio lasciare la parola a Marco Francioli, il direttore.